Meteo cambia tutto. Dopo il caldo record degli ultimi giorni sta per arrivare in Italia una perturbazione che muterà la situazione meteorologica, con temporali violenti, grandinate e cali improvviso delle temperature. Secondo gli esperti, a partire dalla serata di oggi, lunedì 25 luglio, un vortice di aria più fresca farà abbassare le temperature soprattutto sulle regioni del nord.